Soddisfatti perché abbiamo fatto un ottimo lavoro, un ottimo lavoro di squadra, la Commissione Bilancio ha lavorato duramente in questi giorni prima di Natale, siamo usciti dalla Commissione, siamo andati in consiglio l'altro ieri e con un giorno e mezzo di lavoro di squadra abbiamo portato a casa il risultato che vede tanti interventi importanti, la risoluzione di tanti problemi anche giunti all'ultimo minuto del Consiglio regionale, pensiamo alla questione ad esempio di AMA, trasporti della città dell'Aquila, pensiamo a tante questioni nate proprio ieri in fase di discussioni, però quello che mi preme su cui voglio intervenire in questo intervento è che è necessario ricordare i tanti interventi a favore dei comuni, quindi nelle aree interne, i tanti interventi a favore di tante associazioni culturali che operano con difficoltà, con enormi difficoltà sul territorio, i tanti interventi alle risoluzioni di problemi di questa regione previsti già nel documento di bilancio, questa mattina in conferenza a San me ne abbiamo elencati diversi, voglio ricordare i precari della giustizia, voglio ricordare le norme approvate dalla Lega che riguardano il contrasto al cyberbullismo, le norme in favore dei genitori separati, l'Abruzzo regione del benessere, quindi tante cose degne di attenzione da parte di questo governo regionale che sono state approvate dal Consiglio con un lavoro serio, concreto di squadra, che ha visto la maggioranza unita e compatta nel portare a casa il risultato, quindi per me la prima esperienza da Presidente della Commissione di bilancio è una grande soddisfazione.